Il Movimento dei Forconi qui a Palermo, a Palazzo delle Aquile, per un Consiglio Comunale straordinario dedicato a voi. Cosa vi aspettate da questa giornata? Allora, siamo qui a Palermo come siamo stati in tutta l'isola, perché il Consiglio Comunale dell'isola, ovviamente, Palermo non è il capologo di regione ed è più importante. Ci aspettiamo solo una cosa, che sia un Consiglio Comunale condiviso, soprattutto condiviso in modo sincero, spero, perché non deve essere un atto formale solo per farci il Consiglio Comunale, deve essere comunque la condivisione sincera di una problematica che esiste a Palermo e in tutta la Sicilia. Come è andata negli altri comuni dell'isola? Avete registrato questa sincerità, questa solidarietà da parte degli altri Consigli Comunali? Guardi, abbiamo registrato le firme di tutti i consiglieri, non so se sono sincere, ma comunque hanno detto tutti che è vero quello che stiamo dicendo e che la realtà è drammatica, perché nei territori c'è una realtà che forse non si vede nei palazzi, perché quando entri in questi palazzi probabilmente siamo in un altro pianeta. Forse uscendo fuori in via Macqueda, in Corso Vittorio Emanovella, in via Libertà, probabilmente ti rendi conto che la realtà è un'altra. E che le aziende, le imprese, i negozianti, tutti praticamente hanno delle difficoltà che forse non riescono a contrastare. Quindi noi stiamo lavorando perché a Roma si faccia questo tavolo e venga fatto in modo, questa volta con risultati almeno che siano strutturali. Stiamo vedendo una cosa comunque, dai canali che abbiamo stiamo sapendo che a Roma si sta lavorando nella solita maniera, praticamente cercando di tappare le piccole falle, i piccoli problemi che abbiamo rappresentato. Sarebbe bello invece affrontare quel punto che è all'ordine del giorno a Roma, federalismo fiscale per la Sicilia, che ci porterebbe all'attuazione dello statuto, poi questo vogliamo. Alla fine, questa volta, o raggiungiamo il risultato elevato, quello che può essere per la Sicilia forse veramente una svolta, oppure credo che fra sei mesi saremo di nuovo qui a parlare di questo. Noi comunque vogliamo dire a tutti i siciliani che ci dicono che ci siamo fermati, non ci siamo fermati, stiamo solo aspettando qualche settimana, qualche giorno ancora per vedere questi risultati. Se non ci saranno, ovviamente stiano pronti tutti i siciliani, non ci fermeremo, non ci fermeremo. Ritorneremo a Palermo, vedremo quello che possiamo fare, ma di sicuro quello che è stato non sarà un buco nell'acqua. Anche il Presidente di Confindustria Sicilia finalmente vi ha dato ragione. Guardi, non solo ci ha dato ragione, ora addirittura abbiamo saputo che fanno la marcia sullo sviluppo. E ci fa piacere che sia così, perché guardi, ci dà semplicemente la forza di dire che avevamo ragione già prima, da tempo, non dal 16 gennaio. Purtroppo non è stato condiviso il metodo, va benissimo, ma se questo serviva comunque a svegliare i siciliani è andata bene. Perché il danno non è stato quello di quella settimana di sciopero, il danno è stato quello che viene da 20 anni a questa parte. Ma infatti, mi scusi se interrompo, il Presidente di Confindustria Sicilia vi dà ragione, ma ancora i sindacati di categoria si tengono un po' alla larga da voi. È normale? Guardi, c'è bisogno di dirlo. I sindacati di categoria dovrebbero essere al posto mio in questo momento, al posto nostro. Perché purtroppo si sono dimenticati del ruolo che avevano quando sono nati. Hanno fatto troppe collusioni con la politica, troppi accordi con la politica, sindacati, associazioni di categoria, tutti. Ormai non hanno un ruolo nella società di oggi. Hanno solo il ruolo di fare un ufficio di desbligo pratica, io li chiamo, perché è così poi alla fine. Però non difendono la società da quello che è stato il danno che ci è venuto sopra da dieci anni a questa parte. La globalizzazione ci ha distrutti. L'euro ha fatto partire quella macchina della svalutazione che ci ha massacrati. Oggi la manovra finanziaria ha fatto la goccia che fa traboccare il vaso. Cioè l'Italia dovremmo ripararla noi, il debito pubblico dovremmo pagare le aziende che già sono fallite. Non è così. Ma insomma dal governo nazionale vi aspettate qualcosa di buono o vi sentite pessimisti? La prima volta non è andata bene, mi pare, l'incontro con Monti. Guardi, ci siamo sentiti pessimisti già da quando è nato Monti, perché la ricetta era quella e lo sapevamo. Oggi ci sentiamo più pessimisti anche perché non potendo pagare le tasse, come si fa in una democrazia normale, quando non le puoi pagare come fai? Diventi evasore. Dopodiché poi c'è l'esproprio dei tuoi immobili e una macchina che si è inceppata. Io credo comunque una cosa, siamo arrivati e non vorremmo arrivare alla conclusione che non c'è salvezza per l'Italia. Non ci vogliamo arrivare. Ci stiamo sforzando di calmare gli animi per arrivare ad una soluzione democratica. Non vorremmo che si arrivasse così come si diceva stamattina sul radio anch'io, io l'ho sentito mentre venivo qua, alla Grecia 2. Non vorremmo arrivarci. Però guardate ci stanno mettendo tutti i mezzi. L'ultima cosa è la ratifica del trattato con il Marocco. E questa non è una cosa bella per la Sicilia e per l'agricoltura siciliana, ma è così. Quindi tutti questi balzelli, tutte queste normative che ci mettono sempre più in ginocchio, come dobbiamo fare per affrontarle? Non si può affrontare tappando, ripeto, i piccoli errori o le piccole falle. Qui bisogna strutturalmente cambiare pagina. Quindi siete pronti a ritornare in piazza nel caso in cui non arrivassero risposte da Roma e da Palermo? Siamo prontissimi a ritornare in piazza. Vi dico anche che stiamo veramente calmando gli animi, perché c'è gente che vuole già ora ritornare in piazza. Dobbiamo prepararci bene eventualmente. Se questa classe politica non ce la fa, se questa classe politica è impotente davanti al sistema, ha solo una cosa da fare, trarne le conseguenze. Guardi, se penso che tre partiti al Palazzo, alla Sala d'Ercole, hanno firmato la mozione di sfiducia, e dipende anche quello da quelli che sono gli accordi politici per il sindaco di Palermo che si deciderà in queste stanze. Guardi, non può essere. Questo è un meccanismo che ci ha visti fuori, le aziende, l'economia della Sicilia l'ha vista fuori da questi meccanismi. Ora noi vogliamo entrare invece a gamba tesa su questa politica, che ancora oggi agisce così, perché sembra quasi come se ti guardassero per chiederti cosa volete. E' così, e questo mondo è questo. Però purtroppo non deve essere così. Noi stiamo sforzando di farlo in modo democratico e politico. Non vogliamo arrivare a cose che poi alla fine ci potrebbero portare, venamente ci potrebbero portare alla Grecia. Ma non siamo noi a volerla questa Grecia. Questa politica deve rendersi conto. Monti ha detto e ha dichiarato che non tollereremo le manifestazioni violente. Ovviamente. Ma se è così, la disperazione della gente, chi la sta misurando? Come si misura la disperazione dei negozianti, degli artigiani, degli agricoltori, di tutti? A proposito di agricoltori, ieri la capogruppo dell'Udc Giulia Adamo, parlando del PSR, del piano di sviluppo rurale, quindi dei 2 miliardi che dovrebbero essere destinate all'agricoltura, denunciava il fatto che questi soldi stanno finendo agli amici, dei politici e non agli agricoltori. Ci fa piacere che abbia ripetuto le nostre stesse parole Giulia Adamo. Perché guardi, noi da tempo abbiamo chiesto all'assessore all'agricoltura quanto c'è di liquidità disponibile da qui al 2013 per i fondi che sono rimasti. La prima risposta è stata 700 milioni di euro da parte della Barresi, la dirigente dell'assessorato. Dopodiché ci è stato detto invece che i 2 miliardi di euro sono stati tutti spesi e tutti impegnati. Allora vogliamo sapere la verità, tanto è vero che abbiamo visto che oggi sono arrivati gli ispettori per quanto riguarda i fondi comunitari, quindi avevamo ragione di non aver capito quello che ci era stato detto. Vogliamo capire meglio, vogliamo capire come dobbiamo andare ancora avanti, come dobbiamo andare avanti nell'anno 2012 per capire che tipo di prospettiva abbiamo e che programma abbiamo per questa ragione. Grazie. Grazie.